Avrebbero costretto la dirigenza della squadra di calcio Savoia a pagare circa 3.000 euro per consentire loro di continuare a giocare. E' concesso prestiti usurari ad un imprenditore nel settore ittico, che sarebbe poi stato palesemente minacciato per costringerlo alla restituzione del denaro. Sono estorsioni e usure aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Giunta operante nel comune di Torre Annunziata, i reati contestati alle 5 persone arrestate dai militari. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere i militari del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. In un comunicato pubblicato sulla pagina social del Savoia 1908 FC, la società prende le distanze dalla vicenda, precisando che i fatti emersi non riguardano l'attuale società che invece non ha mai ricevuto alcuna richiesta estorsiva. Quanto emerso dalle indagini riguarderebbe dunque un periodo precedente al rilevamento della società. Sempre dalla nota del Savoia si apprende che la società è al lavoro da dicembre 2022, per ridare la giusta immagine al Savoia e fare in modo che si elimini questo accostamento alla camorra dal territorio di Torre Annunziata. L'impegno del club nelle parole riportate. Noi continueremo nel nostro lavoro per portare avanti il progetto di un calcio pulito togliendo i ragazzi dalla strada con la nostra Academy, che conta già oltre 250 ragazzi, e fare in modo che certe cose non accadano più.